Per me in questi giorni ho pensato a una frase per racchiudere un po' quello che stavo provando e secondo me Mario Galaxy è stato quel momento in cui Mario passa dalla meraviglia che ha sempre contraddistinto la serie, quella meraviglia un po' fanciullesca al sublime, alla sensazione che solo le grandi opere d'arte riescono a darti assolutamente ed è una cosa che non ho provato né con i precedenti né con i successivi onestamente sono sempre esultati più tradizionali io forse con Super Mario Odyssey ho provato ancora una volta quella sensazione però veramente sì sì effettivamente l'avrei detto anch'io Odyssey ancora di più no? sì è vero però sì effettivamente diciamo il sublime che provi di fronte a questo tripudio di colori, di emozioni sarà anche la storia con quella malinconia aiuta anche la storia di Rosalind Sfavillotto nella sua ovviamente semplicità diciamo cioè la baffanciullesca ti ti